Siamo con il Presidente Molteni, lo stand Molteni dal Salone del Mobile di Milano. Quali sono le novità dell'anno per quanto riguarda l'azienda? Abbiamo cercato di costruire una casa più alternativa, alternando dei prodotti di Italian Design con dei prodotti invece estremamente disegnati e un po' estremi, combinati insieme con le cose un po' più classiche di Gio Ponte disegnate negli anni 50, riuscendo a ottenere alla fine un risultato molto più caldo e accogliente rispetto a una normale produzione standardizzata di mobile di design, diciamo normale.